La Spagna ha collocato 3,95 miliardi di euro in titoli di Stato, un ammontare poco al di sotto dei 4 miliardi prefissati. La domanda è stata circa doppia rispetto alle offerte per le emissioni con scadenza luglio 2019, aprile 2020 e ottobre 2020. Il rendimento dei bot resta molto elevato, pari al 5% circa, ma è in calo rispetto all'emissione dello scorso 21 luglio.